Non piace a Beppe Grillo la proposta di legge elettorale di Renzi. 5 Stelle hanno scelto di consultare gli iscritti via referendum online. Simona Burattini. Renzi è uno showman, se ne frega del paese. Con il Cavaliere ha scritto un pregiudicatellum. Torna ad attaccare Beppe Grillo e lo fa come di consueto dal suo blog. La legge elettorale scritta da Renzi e Berlusconi, scrive il leader 5 Stelle, prevede ancora liste bloccate con nominati da pregiudicati e condannati in primo grado. E nessuna preferenza. Sull'incontro Renzi-Cavaliere, Beppe Grillo insiste. Oltre la rottamazione c'è la riesumazione del condannato e la sepoltura del volere degli elettori. Quanto invece al modello di legge elettorale che dovrebbe sostituire il Porcellum, il Movimento 5 Stelle ha scelto di lasciare che a scriverla siano i cittadini attivisti con un referendum online. Il Movimento 5 Stelle non decide la legge elettorale nelle oscure stanze del potere con due o tre capi partito, di cui uno condannato in via definitiva. Noi vogliamo scrivere la legge elettorale con 80.000 cittadini e la nostra volontà è di inserirla dopo all'interno della Costituzione. Grazie! Grazie a tutti.